L'amministrazione comunale di Torricella, guidata dal sindaco Michele Schifone, in occasione della festa di San Marco, patrono della città, ha voluto continuare il percorso di interscambio culturale tra le città di San Marco, iniziato lo scorso anno con la sottoscrizione del patto di amicizia tra i comuni di Cellino, San Marco, San Marco Evangelista e San Marco Argentano. In questa edizione della festa di San Marco si è sottoscritto il patto di amicizia con la bella città di Castellabate, bellissima comunità turistica nel Cilento, dove è stato girato il notissimo film Benvenuti al Sud. Una festa da non dimenticare. Questo è il secondo anno che stiamo cercando di fare questi patti di amicizia con i paesi che hanno in comune tutta una serie di peculiarità, ma soprattutto quelli legati alla figura del santo padrono San Marco. Quindi lo facciamo con Castellabate, il paese molto famoso per il film Benvenuti al Sud, quindi noi siamo andati l'altro giorno, ci hanno ospitati. E' nato questo patto di amicizia vero, dove ci si scambia non solo sul discorso religioso, ma anche culturale, prodotti tipici del territorio, quindi una bella manifestazione. Poi diciamo che anche è stato importante stamattina la consegna delle chiavi al santo padrono e soprattutto questa sera molto emozionante è la cittadinanza onoraria Don Nicola Frascella che nei nostri cuori di tutti i cittadini è stata una volontà di tutti e noi abbiamo cercato di accontentare il popolo a dare questa cittadinanza che non si è mai fatta a Torricella. Dal Sud può nascere effettivamente qualcosa di buono e come oggi abbiamo suggellato per la seconda volta questo patto di amicizia tra Castellabate e Torricella. Io mi onoro di rappresentare l'amministrazione comunale di Castellabate e abbiamo anche noi il culto per questo grande santo, San Marco. Anche da noi in questo momento sono in corso dei festeggiamenti, da noi la figura di San Marco è molto legata al mare, è molto sentita dai pescatori del posto. Castellabate nasce come Borgo Marinaro e oggi si è tenuta una suggestiva processione che ha accompagnato il santo nella nostra bellissima area marina protetta. E poi ecco la promozione dei territori, sappiamo che il sindaco di Torricella punta molto e voi avete insegnato come si fa. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere stati set cinematografico di questo film che ci ha regalato una grande notorietà che è Benvenuti al Sud, come tutti ben sapete. Ci troviamo in un posto meraviglioso che è il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e contiamo di continuare, che questo sia solo l'inizio di una lunga amicizia, di un lungo percorso insieme con dei progetti magari da sviluppare insieme all'amministrazione comunale di Torricella.